Ricominciamo dove avevamo finito. Può sembrare ciò adesso o no. Ok. Tifa. Ok. Andiamo. Sì. Dopo che prendi una profonda profonda. Eh? Posso dire che sei nervoso. È così ovvio, eh? Ok. Sono pronta ora. Barrett. Ankenica può... Può vuota ecoclare. Ciò è effetto. Sì. Non so. Non so. No, no. Andiamo. Dove? Non lo so. Alla stazione. Eh? No, no. Andiamo. Dove? Oh, ora stia. Posso far là un posizione con la sua? Se sta in giocando. Eh? Oh, sei. Non so. Non so. Chiamatà. Sì. Beh, non so non soli più poter. Non so, chiamatà. Siao! 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 Scrapposito! Scrapposito! Ho fatto! Ho sviluppato un nuovo materiale! Questa è buono! Ok, ciao! Ok, ciao! Ok, ciao! Siiii sordato provato! Non c'è nessuno di stoppare questo treno che ci siamo, figlio! Molte persone rispondono le loro vie per riuscire. Per riuscire? Abbiamo già messo la parola che il Moor è venuto. Lasciamli tutti sotto il giorno, ma noi lasciamli sotto il giorno. Non ci siamo, non ci siamo. Prendete i tizi giganti, armati. Hanno telecamere. Non sono ricercati. Dovrebbero essere ricercati, dico io. Vabbè. Mocco Reactive 5 Marco riempi da I didn't think word would spread this fast There's barely anyone on this train And none of them look happy to be here Might stand out as a group You two stay here If we weren't hiding the alert, that means more security officers, so we'll be safe, right? Cloud The train will be passing an ID checkpoint shortly Here comes the first hurdle Not much of a war I know, I know, but that doesn't mean I don't have butterflies in my stomach Hey, would you mind keeping an eye on things the next car will be? Why's that? Barrett's always on edge before missionists But you know he's a good guy underneath it all The people on this train don't They'll be fine Maybe But I won't be until I know for sure Be right back Thanks So, do you still support those terrorists? Avalanche is a flight on Midgard I wanna go Their bomb thread has thrown our offices into chaos Let alone the reactor itself It's total insanity Oh no You know you're better than that I have nothing more to say to you and your friend Why don't you go check on Tifa Please don't hurt me I didn't hear anything Emergency ID scan in progress What in the... No way Unauthorized ID is detected Threat level critical Inspection and containment suite initiated Commencing at the rear of the train Not good Get over here now Take care of them cloud It's a lot of You have to get the next call Keep moving people I can't I can't Yes sir Clown Lockdown protocol Initiated 15 power Lockdown Try me 3 unauthorized passengers detected Initiating inspection and detection protocol In corresponding car You have to get out of here What are you doing? Trying to keep you alive But I work for Shinra I'm the enemy I don't care I don't want anyone to die Please I'll look after the others My turn There's no end to them 3 unauthorized passengers successfully In neutralizing Looks like you're right soldier boy Screw this The station will be crawling with security We gotta jump Screw that Need to slow the train down Sounds like a big's plan E Oh Oh Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Okay Y'all watch another I'm gonna jump I'm gonna do it Gonna show you how it's done Uh huh Uh huh Uh huh Uh huh Zipa Oh shit Zipa 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 Sei ok? Si Ok 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 Sei pronto? Pronto Ok It's on you I got it Grazie a tutti! 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 Where's the third? In custody, sir! Return it to the wild! Yes, sir! Right away! It's them! We have a visual on the target! Requesting immediate assistance! You're done! That's them! Yes! Sorry! Don't overdo it! Let me handle it! Keep those gloves up! Sure thing, coach! He's close! He's close! Come on! Farron! 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 Tifa! Could you use some help here? We're coming! Make it quick! Should be some stairs over there! We better hurry! Yeah! I've had enough to hear with you damn robo-bugs! I'm gonna rip off those spindly legs of yours one by one! I'm gonna rip off those spindly legs of yours one by one! Uh... That doesn't sound good! Let's go! Farron! Grace! Give me a hand! Get ready! Let's do this! Take him down! Take him down! Seizing the altitude! It's over! Want some more? You're out! Need my help, do you? See ya! Ain't no plan! Come on! Let's go! Get him down! Get him down! You can't get him down! I'm going to get him down! Let's try too! Get him down! I can't escape! Can't you sleep? I'm gonna try! Oh, it's called for Some! Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun! Ah, che cosa che si sa, noi possiamo prendere. Ora, conoscere la posizione e tornare alla missione! Quello reattore sta aspettando! Sembra che sarà il plan E. Non ho. Il plan A è quello che tutto si fai senza un hitch. Da l'estazione, sarebbe stato un giro per il reattore. Non funziona, ma noi conoscivamo che avessi dovremmo avere alternativi. Plane di riuscire in, in caso dovremmo riuscire. Da l'inforzamento fino a l'inforzamento, B, C, D, e così via. Upi a che? A E. L'esercito. L'esercito è vero! Inoltre, stavamo la trenza tra il settore 4 e il pilota principale quando avevamo riuscire. E finavamo nella linea adattante che dovrebbe essere arrivato al reattore 5. C'è vero. Quindi per ora, seguiamo le tracce. Non troppo l'è, però bisogna cambiare a una rata diversa prima di riuscire. Inoltre, 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 inoltre. Non c'è nulla da preoccupare, signor. La preparazione per la finale finale proseguono senza incidenti. Tengo la sicurezza che tutto si avrebbe avuto come lo intendi. Sì, ovviamente. Non ti farò, signor. 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 Analytics reporta che i risultati falle in l'admissibile range. Se il tuo stock si avrebbe avuto meno, allora fai a riuscire a fare più in l'admissibile regionale. Sì, o quale. Signor. 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 Cosa farebbe senza me? When the time comes, remember, we've just gotta follow the nose. What? Stamps nose. We look for graffiti, then head in whichever direction it's nose points. But pay attention to railway signals, too. You see blue lights, but you're going to right. Take the lead. I got this! Bring it! Come on! Knock on me! Come on! Hiya! Wrap! I'd do like that! Run! 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 Baaah! Baaah! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Jesse was gonna back him up, so it wouldn't surprise me if he needs our help, so let's not keep waiting. Right. You're not going anywhere! It's on now! All right! Watch and learn! You're up! Right through it. Take it from here. Okay, let's go! Let's do this! You're not going anywhere! You're not going anywhere! Come on, boy! Let's go! 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 E' un bambino. Un po' della pietra. Spassare l'arte... Combattere. Boom 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 boom. Alloggiamento per materi. Qu'è? A tutti. A presto, aスpararsi! Scopo è un salto! Oggi a presto! Scopo è tipo... Seguire! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.